Finalmente siamo al tramonto Il mare è ancora leggermente increspato ma presumo che durante la notte giri verso un bel maestrale bello teso Che bellezza, che pace Sono già i lampioni accesi e siamo di marzo ma presto allungheranno le giornate di luce rispetto a quelle di buio Riprendo per un paio di secondi Ecco qua i lampioni Un attimo per riprendere Un attimo per riprendere Questa è l'ex Ecco Stop